ciao ragazzi e benvenuti su h3 pills una nuova serie in cui andremo a vedere degli argomenti precisi di medicina in pochi minuti andiamo a cominciare con i disturbi elettrolitici innanzitutto che cosa sono sono delle patologie causate da alterazione di tre gli uni fondamentali per l'omeostasi corporea e quali sono il calcio il potassio e il sodio e questi sono i loro range di riferimento ovvero da 8,5 a 10 mg a decilitro per il calcio da 3,5 a 5 mille equivalenti litro per il potassio e da 135 a 145 sempre mille equivalenti litro per il sodio cominciamo con l'ipernatremia ovvero una concentrazione di sodio superiore a 145 mg a decilitro quali sono le principali cause le 4 di ovvero diuresi diabete insipido disidratazione e diarrea andiamo a vedere il quadro clinico innanzitutto la sete perché avremo una situazione di ipertonicità e inoltre sintomi neurologici principalmente debolezza e confusione come si fa la diagnosi per fare la diagnosi si divide l'ipernatremia in ipovolemica e uvolemica e ipervolemica l'ipovolemica soprattutto per perdite renali o gastrointestinali quindi la prima di l'evolemica soprattutto per ipodissia o adipsia oppure diabete insipido che è una casa un po' più rara l'ipervolemica invece molto frequentemente per infusione di soluzione ipertonica inadeguata importante la cosa che alcuni pazienti come i neonati possono essere in possibilità di avere abbastanza da rimpiazzare le perdite e questo può peggiorare un'ipernatremia come si tratta in caso di ipovolemia si corregge con soluzione fisiologica ovviamente rimpiazzando i liquidi in caso di ipervolemia con soluzione glucosata eventualmente associata a furosemide per correggere il deficit in caso di uvolemia invece con soluzione ipotonica passiamo all'iponatremia ovvero una condizione in cui il sodio scende sotto i 135 milligrammi al decilitro può essere asintomatica oppure causare anche qua sintomi neurologici fino ad arrivare alle crisi epilettiche ed è particolarmente comune ai pazienti ospedalizzati affetti da ads per quanto riguarda la diagnosi anche qua possiamo distinguere una ipovolemica evolemica o ipervolemica nell'ipovolemica è dovuta soprattutto a vomito o diarrea protratti nell'evolemica può essere dovuta a cose un pochino meno comuni come la sindrome da inappropriata selezione di adh nell'ipervolemica soprattutto secondaria cirrosi e scompenso cardiaco e c'è una forma chiamata pseudoimmunatremia che è causata da iperlipidemia come si tratta trattando soprattutto la causa di base nelle cause ipervolemiche ed evolemiche riducendo la somministrazione di liquidi e somministrando diuretici nelle cause ipovolemiche dando invece liquidi con soluzione fisiologica e in caso di iponatremia severa può essere somministrata una soluzione ipertonica ma senza esagerare se no si va a finire nell'ipernatremia l'iponatremia cronica deve essere corretta lentamente perché si rischia una condizione molto grave che è la mielinurisi pontina passiamo adesso al potassio quando il potassio scende si parla di ipocalemia in particolare quando scende sotto il 3.6 millie equivalenti litro a cosa è dovuto soprattutto a perdite renali o gastrointestinali ovvero poliuria vomito diarrea un'altra causa è lo shift transcellulare dovuto alla somministrazione soprattutto di insulina qual è il quadro clinico è dominato dall'astenia e la debolezza muscolare se poi l'ipocalemia peggiora possono esserci crampi palestesie fino a abdomiolisi e paralisi ascendente in caso di ipocalemia molto grave la cosa da ricordarsi è che i pazienti con alcalosi metabolica ipocalemia e pressione normale soffrono una di queste quattro condizioni quindi si fa diagnosi differenziali tra queste quattro condizioni ovvero abuso di diuretici vomito come abbiamo detto la sindrome di barter che è una causa molto rara di un difetto di assorbimento di sodio nel tratto ascendente dell'alza di enle o la sindrome di gittelmann che è sempre un difetto di risorbimento di nacl ma a livello del tubulo distale come si fa gli agnesi a parte ovviamente gli esami amatici si può distinguere l'ipocalemia da perdite renale con quella da perdite calcio intestinale grazie alla potassemia urinaria spot delle 24 ore è molto importante anche le cg per vedere la gravità dell'ipocalemia e nelle cg si possono avere queste alterazioni visto l'appentimento dell'onda p un allungamento del pr la depressione del tratto st l'appiattimento dell'onda t è un'onda u prominente e qui vediamo in ecg le differenze con l'ecg normale e con quello durante ipercalemia come si tratta ovviamente reintegrando potassio al massimo a 20 mille equivalenti litro l'ora e reintegrando anche il magnesio perché in caso di ipomagnesemia l'integrazione di potassio è più difficile amg andiamo a vedere l'ipercalemia ovvero quando il potassio sale oltre ai 5 mille equivalenti litro le cause sono queste quattro principali attenzione perché un'ipercalemia può essere un artefatto di laboratorio perché se il campione si emulizza poi viene un'academia esagerata e si possono avere anche riduzioni dell'escrizione di potassio per esempio in caso dell'insufficienza renale o alcuni farmaci aumento dell'assunzione di potassio per alcuni alimenti per esempio le banane per shift cellulare ovvero l'isi cellulare per esempio da una sindrome dell'isidomorale quando c'è un tumore le cellule scoppiano e viaggiano potassio all'esterno oppure quando c'è un deficit di insulina o un'acidosi il quadro clinico anche qui se lieve può essere sintomatica oppure causare nausea e vomito addome acuto areflessia debolezza fino alla paralisi flaccida e alla comparsa di aritmie la diagnosi ovviamente si fa un prelepomatico di conferma cercando di non emulizzare il campione e anche qua un ECG per la valutazione delle complicanze cardiache qual è il quadro ECG è questo qui si ha una diminuzione dell'ampiezza delle onde R allargamento delle onde P prolungamento dell'intervallo PR allargamento del QRS appiattimento dell'SD e una onda T molto più appuntita rispetto a quella dell'ECG normale attenzione perché può progredire in fibrillazione ventricolare e arresto cardiaco quindi l'ipercalemia è molto pericolosa e qui vediamo in confronto all'ipocalemia e all'ECG normale per il trattamento possiamo ricordarci questa regola mnemonica ovvero C-BIG-CHI ovvero calcio, bicarbonato e betadoconisti, insulina più glucosio e caiexalate. Il calcio come primo step per stabilizzare le cellule cardiache infatti la fibrillazione ventricolare è la complicanza più grave, bicarbonato con o senza insulina e glucosio per far rientrare il potassio dentro le cellule, betadoconisti come l'albuterolo per promuovere il reuptake cellulare di potassio e alla fine caiexalate per rimuovere il potassio in eccesso. Passiamo adesso al calcio con l'ipercalcemia ovvero quando il calcio supera il 10.2 mg a decilitro, che c'entra la scimmia, è perché le cause di ipercalcemia possono essere rassunte con l'acronimo scimpanse, ovvero supplementi di calcio, iperparatiroidismo, iatrogeno, quindi somministrazione di calcio, iatrogeno, immobilità, sindrome da latte alcali, in inglese milk alcali syndrome, la malattia di Paget, agromegalia o morbo di Addison, neoplasie, sindrome di Zollinger-Ellison o eccesso di vitamina A e D e malattie granulomatose. Qual è il quadro clinico? Anche qui, se lieve può essere asintomatica, può portare a sintomi gastrointestinali, soprattutto analisi e stipsi, psichiatrici, lebolezza, astenia, alterazioni dello stato mentale e nefrolitiasi per ipercalciuria. Come si fa a diagnosi? Dosando il calcio totale e il calcio ionizzato, insieme all'albumina, fosfato, PTH e vitamina D, ovvero tutto quanto lo spettro del metabolismo minerale. Se si sospetta una neoplasia è importante usare il PTH-RP, ovvero una forma di PTH che viene segreto dalle cellule neoplastiche, e fare una retroforesi per escludere un miloma multiplo. In ECG possiamo vedere un possibile accorciamento del tratto QT, che vediamo qua. Il trattamento? Idratazione endovena per ridurre l'ipocalcemia. Se il calcio supere 14 mg a decilitro, fluido endovena e calcitonina e bifosfonati. Bisogna evitare i diuretici diazidici che aumentano l'assorbimento tubulare di calcio e, in caso di malattia cronomatosa, somministrare steroidi. Infine vediamo l'ipocalcemia, ovvero quando il calcio è sotto agli 8.5 mg a decilitro. La causa più frequente è l'ipoparatiroismo transitorio postchirurgico, ovvero secondario a tiroidectomia totale, quando si ha stupor delle paratiroidi. Altre cause possono essere malnutrizione, ipomagnesemia, pancreatite decuta e deficit di vitamina D. Nei bambini si può sospettare una sindrome di D. George, che è comunque una malattia molto rara. Attenzione perché la calcemia può risultare falsamente bassa nell'ipolbuminemia e quindi insieme al calcio è importante dosare sempre l'albumina. La cosa più importante da fare è dosare il calcio corretto per l'albumina con questa formula qui. Il quadro clinico? Questo è molto più facile da conoscere perché ci hanno questi due segni caratteristici, ovvero il segno di Trousseau e il segno di Svostec per tetania latente. Come si fa gli agnosi quindi abbiamo detto calcio corretto totale ionizzato insieme a PTH, magnesio, vitamina D e creatinina per dosare la funzionalità renale. Se il paziente è stato sottoposto a tiroidectomia sarebbe utile andarsi a cercare nel registro operatorio se ci sono state manovre che possono aver dato un danno. alle paratiloidi. L'importante è dosare il magnesio e fare un ECG perché nel ECG si vede un prolungamento all'intervallo QT e che succede se l'intervallo QT si prolunga troppo? Si può rischiare una torsione di punta e quindi una fibrazione ventricolare. Il trattamento? Ovviamente trattare da causa di base, reintegrare magnesio e calcio per via orale associato a vitamina D, come il calcitriolo. E questo è tutto per la prima puntata di H3Pills. Se vi è piaciuto il video mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate le notifiche a campanella e continuate a seguirci su Instagram, Facebook e YouTube e tutti i nostri altri social. Da Federico è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!